Ciao a tutti! In questo video prepariamo la maionese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 minuti. Gli ingredienti sono olio, un uovo, succo di limone, aceto e sale. Quello che vi ricordo è che tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Inseriamo all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo l'uovo, succo di limone, aceto e sale. Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il misurino. Emulsioniamo per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. Nel frattempo versiamo l'olio succo vecchio. Grazie. 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 L'olio scenderà lentamente all'interno del boccale e monterà perfettamente la maionese. La nostra maionese è pronta. Adesso impiattiamo. La maionese potrete conservarla in feco per 3 giorni. Maionese bimbi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.